25 anni, un'occasione evidentemente per celebrare i numeri che caratterizzano il nostro progetto. Sono numeri importanti, 300.000 posizioni gestite, 35.000 aziende gestite, 5,6 miliardi patrimonio complessivo dei fondi pensione partner, quindi numeri assolutamente significativi. Circa il 60% della popolazione regionale è iscritta a una forma di previdenza complementare a fronte di una media nazionale che si agisce sul 37-38%. Quindi sicuramente è un momento anche per ricordare questi numeri e dare atto a chi ha permesso che questi numeri si configurassero. Dall'altro lato però è anche un modo per sottolineare e enfatizzare quanto questi risultati dipendono dalla capacità di creare sinergia e dai contributi che ogni singolo soggetto del progetto è in grado di portare. E noi abbiamo voluto proprio in questa occasione coinvolgere attivamente, proprio da protagonista, tutti questi soggetti, dare loro la possibilità di spiegare il senso del loro impegno dentro questo progetto perché riteniamo che l'unicità del progetto stesso derivi proprio da questo.